Innovazione, nuova cultura d'impresa e il rilancio dell'economia parte anche da questi elementi, secondo il neopresidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. Innovazione è la parola d'ordine di Silvano Pagliuca, manager di Fastweb, nuovo presidente di Confindustria Chieti Pescara. Innovazione, dice, non solo tecnologica ma del pensiero, necessaria per portare una nuova cultura d'impresa. Oggi dobbiamo sapere interpretare i megatrend che ci vengono da altre parti del mondo e ci dicono che la società industriale, per come la conoscevamo, si sta trasformando in una società digitale, quindi è importante affrontare questi temi con una cultura nuova. La rivoluzione digitale, dice ancora Pagliuca, deve riguardare soprattutto la pubblica amministrazione, ne beneficerebbero sotto l'aspetto competitivo e produttivo le imprese che hanno bisogno di semplificazione. Competitività di un territorio si basa anche sull'efficienza di una pubblica amministrazione, purtroppo su questo la regione Abruzzo è la penultima regione d'Italia, siamo davanti soltanto alla Calabria. Nuovo governo regionale, cosa chiede Confindustria e chiede Piscara? Chiediamo di essere ascoltati per quelle richieste oggettive che faremo, noi non capiamo benissimo che abbiamo ruoli diversi, ma nel rispetto reciproco dei ruoli vogliamo essere ascoltati.